Un saluto dal Tg della mobilità, proseguono i lavori per l'abbattimento del tratto di sopraelevata della tangenziale Est, dalle 7.30 di domani alle 12.30 di martedì sarà chiusa via Lorenzo il Magnifico tra la circonvallazione Nomentana e via Teodorico e saranno deviate le linee di bus a 62, 168 e 309. Giovedì la Mille Miglia transiterà per Roma a via Veneto e prevista l'esposizione degli storici veicoli. Per lasciare spazio ai preparativi dell'evento e poi alla mostra già da martedì e sino a sabato via Veneto sarà chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni con la deviazione di 11 linee di bus. Tutti i dettagli su romamobilita.it Grazie per la visione!